Il misù portatile per due motivi. Uno perché l'idea c'è nata qui alla marina del Nettuno, volevamo fare un piccolo dessert che i diportisti potevano portarsi in barca. Da qui poi l'idea si è estesa ad un dessert componibile dove si può giocare, te lo puoi portare sulla spiaggia, in giro. All'interno di questo c'è un tiramisù classico, una ricetta, la ricetta classica del tiramisù italiano. All'interno di questo scatolo qui, quindi c'è questo tubetto, è un po' come altri tubetti tipo il latte condensato che si usava un tempo. All'interno c'è anche della crema di caffè, è un variegato, poi ci sarà un cucchiaino di cacao, di cacao amaro ed un contenitore con dei micro savoiardi già pre-inzuppati all'interno del quale ognuno si costruisce il suo tiramisù. Più che un dessert è un'invenzione che presenterete fra pochissimi giorni ad un evento particolare. Lo presentiamo a Cibo Nostrum, che è questa grande occasione, questa festa della cucina italiana a Taormina, ci sembrava, come dire, il palcoscenico ideale per presentare questo piatto.